Vivo di Cristian Bianchetti, vincitore della prima edizione della Terminillo Ultramarathon, categoria solo con supporto. Grande Cristian! Paolo, Paolino, ma il mare sta aperto per l'occasione o ha aperto proprio... Vai, 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 tranquillo. Cristian, due parole per la Terminillo Ultramarathon. Allora, gara bellissima, vento contro fino al mare, 300 km di vento contro, posti bellissimi. Amatrice è ricostruzione ma è un pianto, Campodosso spettacolare, Gran Sasso spettacolo. Non so dove siete andati a prendere la salita che ci ha fatto risalire lunghissima. Poi scendendo verso il mare abbiamo preso la nebbia che bagnava, l'acqua al mare risalendo, Forca di Presta, freddissimo, a Norcia 6 gradi, a Castelluccio 6 gradi, la discesa veramente fredda, sono arrivato a Norcia infreddolidissimo e poi c'è stata la variante per non andare a Cascia, quella che ci ha riportato sulla Val Nerina e ci ha fatto risalire da Fonte Cerreto, credo. una salita che non finiva più, lì è stata veramente dura. Però è finita, dai. Poi una volta a Rusciolonessa, quando ho visto l'Unessa era a casa, sapevo solo che c'era la Val Lomina, ma è fatta. Grande, 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 grande. Stanno soffrendo per il terremoto. Grande, grande.